Tra le dieci società di Serie D attualmente aventi diritto, soltanto in due hanno già deciso le rispettive guide tecniche in vista della prossima stagione. Si tratta nel dettaglio di Gravina, sulla cui panchina siederà Tony De Leonardis, e Molfetta, al cui timone vi sarà ancora Renato Bartoli, condottiero dei Biancorossi dall'eccellenza alla D. Prossime a decidere, al netto di un cerchio che si restringe sempre più, Taranto, Casarano e Andria. Il sogno in casa Ionica resta l'esperto Getano Teri, attualmente impegnato con il Catanzaro nei play-off per la B. Per i rossazzurri, il successore di Bitetto sarà individuato in uno tra Vincenzo Feola e Ciro Ginestra, mentre il neo-DS della Fidelis, Riccardo Di Bari, potrebbe ben presto chiudere l'accordo con Gigi Conarelli, candidato principale alla panchina bianca-azzurra. Riflessione in Capitanata, l'8 luglio, in occasione della conferenza del neopatron Caterino, potrebbe essere svelato l'allenatore del Cerignola, mentre per Nini Corda e in quel di Foggia non si esclude un ritorno nel ruolo di direttore tecnico, ma il tutto dipenderà dalla categoria dei satanelli. Da comprendere infine le situazioni di Fasano, Altamura e Brindisi, l'incontro tra D'Amico e la terza definirà il futuro di quest'ultimo all'ombra della selva. Monticciolo difficilmente continuerà a guidare i murgiani, mentre ogni aspetto tecnico in casa adriatica è subordinato a quelli che saranno i risvolti societari.